Assessore Diodati, sono partiti i lavori allo stadio Adriatico, una corsa un po' contro il tempo perché il 21 agosto inizierà il campionato di Serie A. Sì, hanno appena iniziato i lavori per la risistemazione dello stadio, con grande difficoltà abbiamo trovato le disponibilità economiche andando a prendere soldi un po' da tutti quanti i settori per trovare questa disponibilità all'incirca intorno ai 500 mila euro. per fare in modo che le parti strutturali dello stadio in difficoltà venissero rimesse tutte quante a norma. Diciamo che grandi difficoltà non le avremo sicuramente, il calendario dei lavori per lo stadio è già stato fatto in maniera completa per cui noi siamo certi che per il 21 agosto avremo lo stadio pronto in tutti i settori. C'è la possibilità che il Pescara possa giocare qualche gara di Coppa Italia anche qui allo stadio Adriatico Cornacchia prima del 21 agosto, nel caso in cui non saranno pronti i lavori verranno utilizzate le parti utili che sono le due tribune che sono già fruibili da subito. Cerchiamo di fare in modo di rendere lo stadio più accogliente possibile, noi per quanto riguarda l'amministrazione di Pescara abbiamo un'idea diversa dello stadio Adriatico, però al momento dobbiamo proseguire su questa strada fino a quando non potremo seguire la strada diversa della gestione diretta all'esterno dello stadio. Verrà rifatto il Manterboso, la Pescara Calcio ci ha chiesto la possibilità di poter mettere due ulteriori bar nella parte delle tribune laterali, verranno rifatte le poltroncine della Poltronissima si stanno vedendo di sistemare anche un pochino le tribune stampa insomma cercheremo di fare in modo di rendere il più accogliente possibile lo stadio.